allora benvenuti innanzitutto a questa prima lezione introduttiva del corso di visualizzazione dell'informazione quantitativa inizierò dandovi un po di informazioni generali sul corso e dopo di che sono aperto a vostre domande o curiosità e per oggi inizieremo così iniziamo poi a presentare il concetto di visualizzazione in generale prima di passare ad argomenti un pochettino più più tecnici nelle prossime lezioni innanzitutto mi presento io sono marco torchiano sono professore al dipartimento di automatica informatica mi aiuteranno in questo in questo corso maria chiara meccati diego monti antonio vetrò che avrete modo di vedere più avanti quando inizieranno poi le attività pratiche del del corso i miei riferimenti sono lì ovviamente il numero di telefono è poco utile in questo in questo momento ma sicuramente potete contattarmi via mail oppure sul workspace slack di cui vi parlerò tra poco come modalità di lavoro sostanzialmente dividerei il tutto in un prima delle lezioni un durante e poi gli altri momenti che abbiamo tra una lezione dell'altra nel prima tenderò a pubblicarvi delle delle video lezioni sintetiche quindi pochettino più stringate rispetto a quello che potrebbe avvenire durante una lezione così sincrona come quella che stiamo facendo adesso riceverete una notifica sul su slack in modo che sappiate quando quando vengono pubblicate tendenzialmente verranno pubblicate il il venerdì per il lunedì e il martedì per il per il giovedì in modo che abbiate un paio di giorni di tempo per guardare tenete presente che sono lezioni relativamente brevi quindi sono video che cerco di mantenere sotto come durata sotto l'ora in modo che sia facile trovare il tempo per per vedere durante gli orari ufficiali di di questo corso ci saranno le lezioni in cui tendenzialmente riepilogo i contenuti delle delle lezioni pre registrate e quindi ci sarà poi l'occasione per eventuali domande chiarimenti ci saranno esempi qualche esercizio e eventualmente discussione su su temi che che lo richiedono negli altri momenti l'interazione si svolgerà essenzialmente sul workspace slack dove voi potete fare domande dove possono esserci ovviamente chiarimenti quindi in questo modo abbiamo anche la possibilità di non limitarci all'orario puramente delle lezioni tenete presente che su slack le domande non avranno una risposta in tempo reale quindi aspettatevi che io abbia la possibilità di guardare le domande una o due volte al giorno ragionevolmente non in orari notturni e probabilmente non nel fine settimana quindi va benissimo che voi facciate le domande in qualunque momento vi vengono non aspettatevi una una risposta immediata l'unico momento su slack in cui su slack ci sarà un'interazione così immediata è durante i laboratori durante i laboratori ci sarà su sul canale dedicato dei laboratori un'interazione immediata con il supporto ovviamente per per gli esercizi l'orario è quello che avete già visto quindi dalle due e mezza alle quattro il lunedì e poi dalle quattro alle sette il giovedì inizialmente il giovedì sarà dedicato a delle lezioni quindi questa settimana e la prossima a partire dalla terza settimana quindi una volta che abbiamo esaurito il l'introduzione di diciamo di argomenti teorici possiamo iniziare con la parte più pratica e quindi dalla terza settimana inizieremo i laboratori quindi le attività pratiche e queste verranno svolte il il giovedì quindi come dicevo prima il venerdì tendenzialmente pubblicherò una lezione un video di una lezione asincrona lunedì ci sarà il riepilogo insomma si riprenderà questo questo argomento il martedì verranno pubblicati gli esercizi oppure per queste due prime settimane la lezione per il per il giovedì e di nuovo il giovedì ci sarà la possibilità di fare attività pratica in laboratorio o per questa settimana e la prossima quindi le prime due settimane poi un'altra settimana durante il corso invece nel laboratorio ci sarà una lezione gli strumenti con cui noi possiamo interagire sono ovviamente queste virtual classroom oggi erano attive tramite zoom probabilmente perché il la piattaforma bvp non era non era attiva o comunque aveva qualche problema e però di volta in volta vedremo che cosa sarà attivo voi dovreste comunque ricevere il link per per collegare per collegarvi oltre a questo ci sono ci sarà a disposizione il workspace di Slack su cui come vi dicevo ci saranno tutte le altre interazioni in caso di problemi utilizzerò e vi chiedo di utilizzare il canale Slack per comunicare per cui se non riuscite ad accedere al portale se ci sono problemi con il collegamento alla lezione fatemelo sapere lì in modo che io possa cercare un'altra soluzione ritardare l'inizio della lezione o quello che è una soluzione ragionemola su Slack vi chiedo di registrarvi il prima possibile e fatelo utilizzando l'email del Politecnico quindi il vostro matricola è studenti.polito.it tutti i contenuti del corso sono disponibili su questa pagina ci saranno tutti i lucidi per il momento ci sono quelli delle prime due settimane di corso ci sono tutti i link necessari quindi a Slack c'è il link a una playlist YouTube in cui metto anche le lezioni quindi oltre al portale ci sarà anche questo secondo canale per le video lezioni questo in termini vagamente generali e organizzativi in che cosa consiste questo corso? allora l'idea è quella di darvi quelle che sono le basi di un'alfabetizzazione visuale allora domanda ho provato ad accedere al link non vedo Workspace Vic 20 21 soltanto Vic 20 20 allora verifico a breve diciamo che magari facciamo una pausa e durante la pausa controllo in modo che abbiate so che comunque un po' di persone ci sono collegate ah ok perfetto grazie Francesca dice che ha avuto problemi con il link del mail ha usato quello delle slide quello delle slide che è direi questo ottimo perfetto grazie della collaborazione probabilmente c'era un errore nel link che vi ho inviato via mail comunque con questo link che in chat ora dovreste riuscire a far funzionare tutto se comunque se continuate ad avere problemi fatemelo sapere via mail cerchiamo di risolvere in modo che il prima possibile possiate avere accesso è ovvio che la prima settimana non è così fondamentale ma dalla prossima settimana inizierà a essere utile allora quali sono i contenuti del nostro corso e qual è l'obiettivo l'obiettivo base è quello di dare un'alfabetizzazione visuale ovvero darvi i concetti base per poter andare a effettuare delle visualizzazioni che siano corrette, sensate e raggiungano il proprio obiettivo quindi di cosa parleremo? parleremo di quelle che sono le basi percettive nel momento in cui fate una visualizzazione voi dovete andare a considerare che verrà vista da qualcuno per cui è importante capire come avviene il processo di percezione visiva da parte degli umani a cui sono dedicate le nostre visualizzazioni dopodiché vedremo di capire come funziona la rappresentazione visuale dei dati ovvero noi partiamo da dati che sono sostanzialmente quantitativi diciamo per lo più numerici come possiamo andare a tradurre dei valori che possiamo trovare in una tabella in un database in elementi visuali e che permettono ovviamente di apprezzare questi valori faremo alcune considerazioni su quelle che è l'elaborazione di dati quindi come possiamo leggere i dati come possiamo acquisirli diverse tipologie di memorizzazione di dati e vedremo un po' un catalogo di quelli che sono i diagrammi più comuni e quando è opportuno utilizzare ciascun tipo di diagramma questo come parte introduttiva del corso che sostanzialmente si svolgerà tra questa settimana e la prossima questo è sostanzialmente la base che vi consentirà di fare un'analisi critica delle visualizzazioni ovvero dato un diagramma che voi avete a disposizione che osservate con queste conoscenze dovreste essere in grado di capire quali sono i limiti, le problematiche ed eventualmente capire come andare a intervenire per migliorarlo è più utile almeno sono convinto che sia più utile iniziare cercando di andare a vedere quali sono delle visualizzazioni già esistenti cercando di capire quali sono i limiti e passare successivamente invece alla fase più attiva e propositiva ovvero quello di andare a progettare la visualizzazione e realizzarla inizialmente faremo delle realizzazioni molto semplici andremo a utilizzare uno strumento molto comune come quello che sono i fogli elettronici excel, open office, quello che volete in realtà più o meno riuscite a fare le stesse cose hanno tutti gli stessi limiti si tratta di strumenti abbastanza limitati che però riescono a farvi fare in maniera veloce quelli che sono i diagrammi più semplici quindi se volete fare una visualizzazione rapida e veloce e avete i dati all'interno del vostro foglio excel ecco, quello è lo strumento che ragionando nuovamente utilizzate anche qui valgono tutti i principi di cui parleremo successivamente l'argomento si sposta non più sui fogli elettronici ma su un ambiente un po' più complesso che è l'ambiente che si basa su R R è un software di analisi matematica o statistica che ha delle librerie molto versatili e molto potenti per poter andare a fare elaborazione di dati, visualizzazione e anche rappresentazione interattiva che sarà sostanzialmente l'ultimo passo quindi in termini di argomenti inizieremo a parlare di dati, misure che sono gli elementi fondamentali che noi andremo a visualizzare perché alla fine quello che visualizziamo sono risultati di misure gli aspetti cognitivi della visualizzazione le tecniche di visualizzazione e poi andremo a parlare di quello che è l'ambiente di R le librerie grafiche che mette a disposizione in particolare ci focalizziamo sulla libreria che si chiama GGplot che è sostanzialmente quella più potente e più utilizzata e poi andremo a vedere come possiamo aggiungere dell'interattività a dei diagrammi tramite quello che è un'altra libreria che si chiama Shiny il tempo dedicato ai vari argomenti non è proporzionale alle linee che vedete qua perché l'ultima parte, quindi la parte che riguarda la visualizzazione l'ambiente R e il loro uso sostanzialmente prenderà più di metà del corso quindi la seconda metà e i secondi due terzi del corso saranno dedicati a questo argomento sottolineo che l'argomento, il linguaggio R e tutto l'ambiente che lo circonda è una parte nuova di questo corso fino all'anno scorso la parte di visualizzazione veniva svolta utilizzando JavaScript e le librerie messe a disposizione da JavaScript quindi questa è una variante importante rispetto allo scorso anno mentre invece la prima parte del corso è sostanzialmente analoga non cambia molto lo dico, lo sottolineo per chi ha seguito eventualmente gli anni passati ecco, questa parte è decisamente nuova e quindi non è possibile utilizzare quanto fatto gli anni passati come prerequisiti mi aspetto che voi abbiate una conoscenza base dei concetti di statistica anche se comunque faremo qualche piccolo richiamo ma ovviamente non mi metto a rispiegare cosa sono media, deviazione standard eccetera facciamo un rapido richiamo di cosa sono velocemente ma gli aspetti matematici li do un po' per scontati e ovviamente un po' di conoscenza di programmazione il linguaggio R ha alcune caratteristiche simili agli altri linguaggi quindi un linguaggio strutturato quindi mi immagino che sappiate cosa sono delle funzioni i costrutti di controllo, i cicli, le strutture dati di base quali ad esempio le variabili, i vettori, le matrici un po' come funzionano in modo da poterli utilizzare all'interno di programmi R non andremo a sviluppare programmi particolarmente complicati quindi non scriveremo più di un 50 righe di codice per risolvere i nostri problemi giusto per darvi una misura di quello che potrebbe essere la complessità del codice da scrivere però è ovvio che la programmazione di base è qualcosa che dovrebbe essere noto quali saranno gli strumenti che utilizziamo allora, fogli elettronici allora, ci tengo a iniziare con i fogli elettronici perché come vi dicevo prima sono degli strumenti sì limitati in termini di visualizzazione ma comunque molto veloci e semplici da utilizzare quindi avere un minimo di pratica con questi strumenti è molto utile per fare delle visualizzazioni veloci dopodiché andremo a vedere R in particolare utilizzeremo come strumento un ambiente di sviluppo che si chiama RStudio che è probabilmente quello più diffuso più utilizzato da chi utilizza questo linguaggio lo potete scaricare da quel link quindi rstudio.com e scaricate RStudio attenzione, ci sono alcune varianti c'è una variante pagamento e una variante free ovviamente voi dovete scaricare quella free e ci sono due versioni di RStudio una che viene chiamata desktop che è quella che utilizzeremo noi e c'è un'altra che si chiama server che non ci interessa in questo corso quindi è pensata per essere installata su un server quindi non è utilizzabile direttamente sui vostri pc oltre a questo ovviamente dovendo poi andare a utilizzare delle visualizzazioni interattive sarà utile avere un browser vanno bene tutti Firefox e Chrome sono quelli raccomandati Safari funziona abbastanza bene attenzione se utilizzate Internet Explorer perché le versioni vecchie hanno dei grossi limiti quindi verificate di avere una versione nuova di Internet Explorer se volete utilizzare quello oppure installate le versioni più recenti di Firefox e Chrome come organizziamo il corso ci saranno delle lezioni per definire i concetti fondamentali quindi queste prime due settimane saranno se volete più noiose rispetto alla parte successiva perché ci saranno lezioni mie con un po' di esempi ma tutto sommato a voi avrete poca attività pratica successivamente dalla terza settimana ci sarà ogni settimana un pezzettino aggiuntivo di teoria tendenzialmente pubblicato come video preregistrato il venerdì ripreso lunedì durante questo orario questa lezione e poi svolto in maniera pratica da voi durante il laboratorio che si terranno generalmente il giovedì ovviamente l'evoluzione sarà passo passo quindi ogni volta aggiungeremo un nuovo pezzo e gli ultimi laboratori che andrete a fare saranno sostanzialmente analoghi a quelli che sono dei temi d'esame i temi d'esame che sono presenti sul corso fanno riferimento ai programmi vecchi nel senso che le soluzioni non sono fatte in R ma sono fatte in JavaScript per cui la parte di programmazione non è direttamente collegabile a quello che facciamo quest'anno ma il tema d'esame quindi il tipo di lavoro da fare è esattamente uguale quindi potete prendere spunto da quelli potete farlo adesso se volete avere un'idea vi consiglierei di aspettare più avanti diciamo queste prime due settimane e dopodiché potete iniziare a dare un'occhiata ai temi d'esame per capire di cosa si tratta perché adesso magari rischia di essere qualcosa di difficile da capire nel dettaglio esami una volta c'erano gli esami in presenza adesso parliamo di esami in remoto allora domanda le lezioni pre-registrate allora sì le lezioni pre-registrate torno un attimo indietro così ve lo riepilogo tendenzialmente il venerdì le lezioni saranno pubblicate utilizzerò in parte lezioni nuove in parte lezioni magari dello scorso anno se la qualità è buona teoriche e dopodiché il lunedì andrò a riprendere quei concetti e farò magari degli esempi pratici e degli esercizi il lab che ci sarà il giovedì a partire però dalla terza settimana sarà sugli argomenti che tendenzialmente abbiamo visto precedentemente quindi il consiglio e il corso ovviamente è pensato per un'attività e continua e un seguire quelli che sono gli argomenti del corso il materiale sarà tutto a disposizione quindi gli esercizi le soluzioni le lezioni i lucidi quindi se vi capita di saltare una settimana o due per altri problemi dovreste riuscire a recuperare è ovvio che se lo fate in maniera progressiva incrementale di settimana in settimana è un po' più facile se accumulate tutto in fondo rischia di essere un po' più complicato è fattibile perché comunque qualcuno ha anche dato l'esame avendo seguito soltanto le lezioni pre-registrate però il mio consiglio di non complicarvi la vita è cercare di seguire comunque le ore sono relativamente sono relativamente poche l'esame è un esame in remoto il punto di partenza dell'esame è un caso di studio quindi partiamo da una visualizzazione già esistente e da eventualmente i dati che sono utilizzati per realizzare quella visualizzazione si tratta di fare due attività analizzare quella visualizzazione ed è sostanzialmente l'argomento delle prime due settimane di corso e riprogettarla normalmente si tratta di una visualizzazione che ha dei limiti dei problemi si tratta di riprogettarla e di realizzarla utilizzando R quindi la riprogettazione è relativamente semplice la realizzazione richiede un po' più di tempo oltre a questa parte di diciamo così pratica applicativa c'è una parte teorica con delle domande a scelta multipla su tutta la parte di teoria che magari non è direttamente applicata nell'esercizio legato al caso di studio i punteggi sono quelli che vedete quindi sono 12 punti per la prima parte 17 per la parte di riprogettazione 3 punti per le domande teoriche come sono svolte queste parti? allora la prima parte di analisi è svolta all'interno della piattaforma examen utilizzando il respondus ci saranno dei campi di testo in cui voi andrete a scrivere la vostra analisi della visualizzazione e ovviamente risponderete alle domande teoriche la seconda parte che riguarda sostanzialmente la realizzazione della visualizzazione è fatta in maniera sincrona quindi avrete normalmente diciamo 3-5 giorni più sui 5 che sui 3 di tempo per partendo dai problemi che avete evidenziato durante l'esame diciamo sincrono le indicazioni che avete dato su quello che potrebbero essere le soluzioni di questi problemi andare a realizzare questa visualizzazione utilizzando per l'appunto R la scelta di farvi fare la seconda parte in maniera sincrona a casa senza un videocontrollo è data dal fatto che le problematiche che nascono da farvi utilizzare strumenti come Vlive o altro sono superiori a il controllo che è possibile esercitare se volete è un po' una una fiducia che che vi diamo sulla seconda parte che ovviamente dovete fare in maniera autonoma io non posso controllare che voi non comunicate tra di voi è chiaro che nella prima parte voi avrete identificato una serie di problemi avrete dato delle linee guida su come fare la visualizzazione quelle dovrete seguire poi ci saranno possibili varianti ma sostanzialmente quello è il punto di partenza è ovvio che se mentre siete a casa non vi ricordate qualche dettaglio su come si implementa un particolare aspetto e per chiarirvelo parlate tra di voi o andate a cercare un tutorial su internet diciamo che quello fa parte del gioco ecco la parte pratica di realizzazione salvo la risoluzione di problemi puntuali è la parte che doveste fare in maniera autonoma ovviamente io mi aspetto di non vedere soluzioni esattamente identiche copiate uno dall'altro ecco questo è diciamo il minimo livello della decenza nelle slide successive vi metto un po' di lettore consigliate sulla visualizzazione sono consigliate nel senso che non sono strettamente necessarie per il superamento del corso dell'esame diciamo che il materiale che vi fornisco e un po' di link sono tendenzialmente sufficienti per superare il corso per quanto riguarda R su internet trovate una quantità incredibile di materiale di suggerimenti e quindi non è strettamente necessario se volete approfondire alcune tematiche ecco questo può essere un motivo per andare ad acquistare uno dei libri che vi ho citato questo è sostanzialmente l'organizzazione la struttura del corso domande curiosità dubbi allora perché è stato scelto R per due motivi uno R è un linguaggio molto diffuso da quest'anno come probabilmente sapete il corso del primo anno non sarà più in C non è più stato fatto in C ma è stato fatto in Python per quanto riguarda l'analisi dei dati e le elaborazioni grafiche i due linguaggi principali che sono utilizzati sono R e Python R non è sostanzialmente svolto forse in un corso di statistica e quindi è una competenza che può essere molto utile che non è disponibile in altri corsi l'altro motivo è che sostanzialmente JavaScript è ripreso nella magistrale in ingegneria informatica come primo primo corso di web programming e quindi andare a spiegare JavaScript in questo corso nell'ultimo anno della triennale rischiava di essere di rappresentare una grossa sovrapposizione con quello che almeno per chi fa informatica uno avrebbe visto l'anno successivo inoltre JavaScript è molto specifico per diciamo più informatico R ha un campo di applicazione molto più ampio e quindi diciamo è differenza di più e sostanzialmente vi dà delle conoscenze che sono probabilmente più utili che conoscere JavaScript che chi comunque fa informatica lo vedrà l'anno successivo queste sono le motivazioni che mi hanno portato a togliere JavaScript e a mettere R l'alternativa ovviamente era Python ma Python è stato inserito al primo anno e quindi era per dare qualcosa di diverso altre domande dubbi sì l'obiettivo è di fare qualcosa è un corso a scelta quindi c'è un po' più di libertà rispetto agli argomenti e come viene svolto quindi l'idea è di fare qualcosa di progettuale e darvi la possibilità di farlo allora torno un attimo sulle modalità d'esame la parte di sviluppo che farete in realtà farete a casa anche la prima parte quindi di Respondus però la parte che fate diciamo in maniera asincrona è un qualcosa che io mi aspetto venga fatto bene con molta cura cioè alla fine una visualizzazione ben fatta è una visualizzazione che ha i dettagli ben curati ecco su questa parte io non andrò a valutare esclusivamente il fatto che la visualizzazione tutto sommato rispetti le regole generali di cui parleremo ecco vorrei vedere un minimo sforzo da parte vostra nel fare qualcosa di curato e possibilmente innovativo ecco è ovvio che probabilmente al 30 non ci arrivate se non fate qualcosa di ben fatto e molto curato ok l'esame probabilmente lo passate anche limitandovi a fare il vostro compitino però ecco per avere un buon risultato mi aspetto qualcosa di di fatto e molto curato negli esami diciamo dell'anno scorso ho visto che c'erano molte variazioni ecco qualcuno ha fatto degli ottimi lavori qualcun altro si è limitato a fare il compitino ovviamente questo verrà poi riflesso nei voti per cui è un'occasione per voi per fare qualcosa diciamo di progettuale sfruttatela cercate di farlo bene poi il mio obiettivo non è bocciare nessuno è garantire che abbiate delle conoscenze di base quelle non sono tantissime quindi non è un esame pesante a questo punto se voi non avete altre domande o commenti direi che possiamo iniziare a parlare di che cos'è la visualizzazione cosa si intende per visualizzazione quali sono gli aspetti fondamentali allora mettiamo un attimo in pausa la visualizzazione eccoci qua perfetto a questo punto dovreste vedere i lucidi relativi alla visualizzazione che cos'è la visualizzazione ovvero di cosa parliamo nel nostro nel nostro corso allora la visualizzazione è quel processo che consiste nell'andare a codificare attraverso delle caratteristiche visuali dei dati con l'obiettivo di trasmettere dell'informazione utile questa se volete è una definizione abbastanza sintetica e semplice della visualizzazione anche in questa definizione molto molto semplice ci sono tutti gli elementi chiave il punto di partenza sono i dati ok quindi i dati sono quelli che in pratica mi danno il via ho una fase di codifica quindi i dati devono essere in qualche modo trasformati codificati come attraverso delle caratteristiche visuali quindi se pensate al classico esempio dei punti su un piano cartesiano la codifica di una coppia di dati è sostanzialmente la posizione all'interno del piano cartesiano se pensate a una serie di dati molto semplice la codifica di quegli dati potrebbe essere all'altezza di una barra qual è l'obiettivo di questa operazione è quello di andare a trasmettere dell'informazione quindi io uso dei grafici dei diagrammi per andare a trasmettere dell'informazione e facilitare la comprensione di qualche fenomeno perché uso la visualizzazione invece di semplicemente parlare o scrivere dei numeri tramite il testo la prima motivazione forte è quello che si chiama la capacità di recuperare l'informazione ovvero l'information retrieval ci sono stati diversi studi qui venne cito uno in pratica se io vedo un'informazione rappresentata in maniera visuale ho molta più capacità di memorizzarla e quindi successivamente di andare a recuperare questa informazione in un esperimento in cui erano mostrati le stesse informazioni in un caso puramente testuali in un altro caso testuali con un aiuto visuale la capacità di recuperare le informazioni era ridotta al 10% dopo tre giorni nel caso di informazioni puramente testuali e era invece del 65% nel caso di informazioni testuali più la rappresentazione visuale quindi è molto più memorabile mi ricordo meglio di queste informazioni densità di informazione questo è il secondo motivo per cui vado a utilizzare una rappresentazione grafica se andate a prendere uno schermo vecchio vga con una risoluzione di 1024x768 abbiamo un milione di pixel un milione di pixel vuol dire un milione di puntini e ciascuno può assumere un colore diciamo per semplicità che ognuno potrebbe rappresentare un carattere quindi un valore da 0 a 256 in realtà può rappresentare molti più colori e se immaginiamo anche così semplificando di poter avere un milione di caratteri un milione di caratteri stampati su un A4 con un corpo 11 sono 250 pagine quindi volendo rappresentare gli stessi dati in maniera testuale rispetto a un'informazione visuale ecco è ovvio che questo esempio è puramente estremizzato però sicuramente è un'esperienza comune quella che io riesco a concentrare all'interno di un'immagine tantissime informazioni vi faccio un esempio allora qui che cosa abbiamo abbiamo sostanzialmente una serie di grafici per diversi anni ok il primo è del 49 l'ultimo è del 2011 vedete i numerini che ci sono di fianco in alto a sinistra rispetto a ciascun grafico ognuno di questi piccole nuvolette che vediamo rappresenta la situazione delle votazioni nel parlamento americano e ogni singolo punto rappresenta un deputato quindi ovviamente i deputati democratici sono blu i deputati repubblicani sono rossi i puntini sono collegati se una particolare coppia di deputati ha votato nello stesso modo ok e più frequentemente questa coppia di deputati rappresentati dai due puntini hanno votato nello stesso modo in tutte le votazioni che sono svolte nel Parlamento più questi sono vicini quindi se andate a vedere il primo grafico in alto a sinistra vedete come democratici e repubblicani sono molto connessi quindi capitava molto spesso di andare a osservare deputati dei due partiti che votavano nello stesso modo e alcuni erano molto più dall'altra parte rispetto alla maggioranza del proprio partito e quindi la l'appartenenza ai due partiti non era così netta in termini di quelli che erano poi i voti concreti è ovvio che invece di allinearsi a una rigida linea del partito ognuno votava secondo coscienza o secondo quello che pensava se voi andate a vedere invece all'estremo opposto quindi in basso a destra cosa succede vedete che i due queste due nuvolette blu e rossa sono molto strette e quasi non comunicano tra di loro questo vuol dire che ci rappresenta in maniera grafica molto evidente come c'è stata una forte estremizzazione tra questi due partiti quindi la linea del partito tende a predominare praticamente sempre e vediamo come nel corso degli anni questa distinzione si è sempre più accentuata quindi i membri dei due partiti votano praticamente sempre in linea col partito e non capita mai che un membro del partito opposto un deputato del partito opposto voti come mio partito quindi il famoso vincolo di mandato in questo caso sembra essere molto molto forte mentre invece all'inizio c'era un misto quindi pur appartenendo a partiti diversi le idee e i voti svolti su partito radicalmente potevano essere comuni stiamo parlando di non ricordo quanti quante genere di persone sono parte del parlamento americano stiamo parlando di 4 per 8 diversi legislature moltiplicato per 200 300 quelli che sono i nostri deputati è ovvio che un'informazione così densa non avrei mai potuto rappresentarla con questo livello di dettaglio tramite del testo terza motivazione che ci porta a utilizzare la visualizzazione dei dati invece di utilizzare altri modi ad esempio il testo e il contesto normalmente la visualizzazione ci permette di andare a confrontare diversi valori e di mettere l'informazione in un contesto un singolo numero normalmente non significa nulla se io vi dico 42 42 che cosa significa per voi 42 è la risposta però manca la domanda se io 42 non lo metto in un contesto non so che cosa voglia dire sono metri chilometri euro milioni di euro ok senza il contesto è molto difficile andare a apprezzare i numeri e capire cosa ci dicono altro esempio questo è tratto da una visualizzazione pubblicata su New York Times 5 anni fa ormai 6 allora va a vedere questo ci sull'asse verticale abbiamo lavori per numero di lavori posti di lavoro per migliaia di posti di lavoro diciamo della classe media americana vedete che abbiamo una serie di raggruppamenti ogni raggruppamento rappresenta una tipologia di lavoro una macro categoria per cui abbiamo qui a sinistra professionisti e specialisti tecnici in mezzo qui abbiamo polizia vigili del fuoco e militari transportation workers eccetera la linea congiunge due puntini che rappresentano sostanzialmente i valori numero di lavori nel 1980 il puntino a sinistra e nel 2015 il puntino a destra e la barra sostanzialmente è inclinata da una parte o dall'altra a seconda che quel tipo di lavoro fosse più o meno frequente negli anni 80 rispetto negli anni 2000 altra informazione che viene data è la percentuale di uomini o donne che svolgono quel tipo di lavoro per cui vedete in centro secretaries segretarie è un lavoro prettamente femminile statisticamente se andiamo a prendere un po' più a destra production supervisor o foreman è un lavoro puramente maschile ovviamente abbiamo dei casi intermedi in cui il colore è un grigio nel senso che comunque è un lavoro svolto in qual misura da uomini e donne ci sono anche casi in cui il lavoro era originariamente maschile o femminile e col tempo è cambiato ora dire che che so i production supervisor sono passati da diciamo 35.000 a 10.000 ci dice relativamente poco allora già due valori ci permettono di avere un minimo di confronto ma se mettiamo qui due valori nel contesto di tutte le altre variazioni vediamo che questo tipo di variazione è una variazione molto alta c'è stata una variazione elevatissima buona parte di tutte le altre variazioni sono molto minori quindi i segmenti sono molto meno inclinati quindi vediamo come segmenti molto inclinati quelli dove la variazione è stata più significativa e più piatti quelli dove la variazione è stata meno significativa quindi di nuovo oltre a una densità cioè non come quella dell'esempio precedente abbiamo i dati che sono messi in correlazione in un contesto molto più ampio che ci permette di apprezzare i valori assoluti e anche l'entità delle variazioni quindi di nuovo andare a presentare queste informazioni senza un aiuto grafico sarebbe molto molto difficile un minimo di storia dietro la visualizzazione i primi grafici di cui si ha storia si ha nota nella storia sono quelli rappresentati nel Commercial and Political Atlas pubblicato da William Pleifer nel 1786 in cui Pleifer raccoglie dati economici legati all'Inghilterra per cui in questo esempio vedete un diagramma a linee cosa che è comune vedere oggi che rappresenta gli import in giallo e gli export in rosso il fatto che l'import sia più alto dell'export vuol dire che il saldo è a sfavore dell'Inghilterra oltre ai diagrammi a linee cosa comune oggi Pleifer aveva anche rappresentato per la prima volta i diagrammi a barre stesso stessa pubblicazione minard minard è se volete un un precursore di molte visualizzazioni moderne siamo di nuovo nell'ottocento e in questo diagramma rappresenta graficamente l'andata cioè l'andamento di quella che è stata la campagna di Russia di Napoleone allora voi vedete due blocchi uno beige e l'altro nero quello beige rappresenta l'avanzata dell'armata di Napoleone quello nero invece l'ha ritirata lo spessore di questo flusso di questa linea rappresenta l'entità dell'armata quindi il numero di uomini che la componevano quindi se andiamo a vedere all'inizio qui abbiamo 422 mila persone che è l'armata all'inizio alla fine ne abbiamo 10 mila quindi graficamente riusciamo ad apprezzare molto bene l'entità della catastrofe lo spessore dell'esercito alla partenza e l'esercito all'arrivo sono anche rappresentati vedete gli aspetti geografici quindi dove si trovava l'esercito in un certo istante quindi l'asse orizzontale rappresenta il tempo a crescere e poi a tornare indietro un altro aspetto importante è la temperatura quindi la parte che vedete qui sotto quindi il grafico che vedete sotto è la temperatura legata esclusivamente alla ritirata ok l'andata sommata è andata bene il problema è stata la ritirata la temperatura parte da lo 0 il 18 ottobre e va a meno 30 ok quindi di nuovo altro elemento nel contesto legato anche al tempo qui vedete in vari istanti c'è il tempo c'è l'istante l'entità dell'esercito in ritirata e le temperature quindi in questa visualizzazione c'è tantissimo tanti dettagli messi assieme che ci permettono di apprezzare immediatamente l'entità di quella che è stata la sconfitta di questo dell'esercito di Napoleone altro esempio di visualizzazione prima visualizzazione è l'orario dei treni da Parigi a Lione sull'asse orizzontale abbiamo gli orari l'ora sull'asse verticale abbiamo le varie stazioni quindi abbiamo Parigi in alto a metà abbiamo Dijon e in basso abbiamo Lione i segni diagonali che vedete rappresentano invece i treni per cui se andiamo a vedere Parigi alle 11 vedete che parte una linea che arriva a Dijon verso le 5 del pomeriggio subito dopo ce n'è un altro un altro treno che parte alle diciamo alle 5 e me verso le 6 e arriva a Lione alle 10 in questo modo io riesco a vedere i vari trattini che rappresentano i treni vedo quando partono quando arrivano dove e che orario si fermano in ogni posto altra visualizzazione molto densa e molto sintetica se arriviamo a tempi un pochettino più recenti ci sono tre libri fondamentali uno di John Taki che è esplorato di data analysis che è un libro scritto in un momento in cui la visualizzazione fatta tramite calcolatore era ancora molto agli inizi quindi non avevamo il display come oggi ad alta risoluzione quindi buona parte delle tecniche che venivano fatte erano fatte per un'analisi manuale quindi partiva da una tabella di dati e cercava di visualizzarli in maniera sintetica con operazioni fatte manualmente dell'83 c'è The Visual Display of Quantitative Information libro da cui dovete prendere anche spunto il nome di questo corso di Edward Tafti che se volete è il primo libro che definisce i criteri con cui andare a valutare in maniera critica delle visualizzazioni ne definisce una serie di linee guida che riprenderemo almeno in parte in questo corso su cosa è una buona visualizzazione e cosa no e poi nell'85 c'è The Elements of Graphic Data di Cleveland che ha il pregio di essere la prima pubblicazione scientifica che analizza in maniera quantitativa con degli esperimenti veri e propri vantaggi e svantaggi di diverse visualizzazioni alternative quindi questi sono tre momenti importanti siamo intorno agli anni 80 quindi dal 77 all'85 e lì se volete definiscono buona parte di tutta la teoria le origini di quello che vedremo in questo corso ovviamente c'è stata poi una significativa evoluzione però gli elementi fondamentali partono da questi tre libri che cos'è la visualizzazione dell'informazione beh è l'uso di un rappresentazione supportata dal calcolatore eventualmente interattiva di dati per amplificare la cognizione la comprensione dei dati quindi se volete questa è un'altra definizione un pochettino più specifica rispetto alla prima che abbiamo visto quali sono i passaggi che è necessario fare per poter andare a fare una visualizzazione beh sostanzialmente il punto di partenza come vi dicevo sono i dati quindi partiamo da quelli che sono i dati qui in basso troviamo a destra troviamo i dati i dati devono essere poi codificati devo rappresentarli in qualche modo quindi devo dato un certo numero andrò a rappresentare un punto in una certa posizione una linea una barra con una certa lunghezza eccetera quindi associo ogni singolo dato che voglio rappresentare un qualche oggetto e delle sue proprietà potrebbero anche essere il colore non semplicemente la lunghezza o la posizione all'interno del mio grafico quindi vado a sfruttare il primo passo nella mia nella fruizione della visualizzazione che è la percezione visiva dove il mio lettore chi guarda il grafico percepisce degli oggetti punti linee o altro e le sue caratteristiche le loro caratteristiche il passaggio successivo è quello di ragionamento quantitativo in cui io sono in grado di andare a vedere quali sono i segmenti più lunghi quali sono le barre più lunghe quelle più corte quali sono i punti più a sinistra più a destra quindi riesco a apprezzare il valore del dato e riesco a fare dei confronti quindi capire che uno è più grande dell'altro il terzo passaggio è quello in cui io raggiungo quella che è la vera informazione ovvero sono in grado di apprezzare alcune strutture tipiche alcuni pattern degli andamenti del tempo posso andare a individuare quelle che sono eccezioni posso andare a mettere in ordine e quindi fare una comprensione più approfondita e più elaborata di quelli che sono i dati e questo è il passaggio che mi permette di andare a comprendere i dati che sto visualizzando e ragionevolmente è il punto di partenza per andare a fare a prendere delle decisioni vediamolo con qualche esempio ok che cosa vogliamo fare noi quando andiamo a comprendere i dati scusate voglio andare torni indietro quindi quando ho un messaggio quantitativo io voglio andare a mettere delle misure quantitative dei valori e delle categorie l'unione di questi due sostanzialmente è quello che mi permette di andare a fare una visualizzazione la visualizzazione che deve andare a supportare una comprensione comprensione che può essere di vari tipo posso ad esempio andare a vedere delle variazioni all'interno di un unico insieme di valori quantitativi quindi la distribuzione vedo quanti sono alti e bassi la deviazione rispetto alla media ad esempio la corredazione se io ho più valori oppure ho una variazione all'interno di un'unica categoria ad esempio voglio andare a vedere il ranking di alcuni quindi vedere chi è più alto o più in basso rapporti parte tutto quindi che percentuale di persone è stata vaccinata per ogni per ogni tipo di categoria l'andamento nel tempo la disposizione dei valori di certe misure nello spazio oppure posso fare delle analisi multivariate più complesse che dipendono un po' da quante analisi quanti dati sto andando a trattare che strumenti vado ad utilizzare per la visualizzazione beh sostanzialmente tabelle che sono la visualizzazione base più semplice testuale e grafici ovviamente uno ha una visualizzazione testuale e l'altro è visuale vi menziono anche le tabelle perché sono molto utili nel caso in cui io devo andare a fare delle ricerche di valori cosa che non riesco a fare tanto agevolmente in intendo di un grafico quindi quando ho la necessità di andare a identificare un valore specifico è molto più utile avere una tabella in cui faccio una scansione veloce e trovo il valore piuttosto che avere un grafico è il motivo per cui quando ad esempio andate a vedere un listino prezzi di qualcosa è una tabella con due colonne il prodotto e il valore trovato il prodotto vado a vedere il valore e non avete un grafico a varre ad esempio che è più scomodo da leggere i grafici i grafici ovviamente utilizzano un meccanismo diverso abbiamo degli assi abbiamo degli oggetti visuali che vengono messi abbiamo delle scale che sostanzialmente permettono di andare a far corrispondere una posizione una caratteristica dei nostri oggetti a dei valori il vantaggio di un grafico ma l'abbiamo menzionati prima è sostanzialmente quello che io ho una visione di insieme cosa che è difficile avere se ho una tabella piena di tanti dati quindi i grafici sono utili se io voglio andare a vedere una tendenza se voglio andare a fare dei confronti se voglio evidenziare delle eccezioni dei dati particolari quindi l'uso di grafici e tabelle è diverso in base a quello che è il nostro obiettivo qualche esempio di buone e pessime visualizzazioni tenete presente che esattamente come quando si scrive una visualizzazione può essere in grado di comunicare delle idee in maniera più o meno chiara precisa efficiente io posso avere esattamente come delle pessime scritture pessime esempi di scrittura posso avere dei pessimi esempi di visualizzazione in cui io i dati non riesco a capirli non sono in grado di fare dei confronti oppure ho un messaggio che non corrisponde ai dati che invece stanno sotto ecco questo è un esempio di grafico a barre o a colonne in realtà è un pessimo grafico perché qualche idea potete scrivere in chat se avete qualche idea sul perché non è allora non si vedono completamente tutte le barre sì giusto perché ad esempio quelle dietro quel verde là dietro non si capisce alcune barre e anche il blu non si vedono bene e quindi i dati sono oscurati tridimensionale la tridimensionalità è un problema di per sé giusto perché tendo a non percepire correttamente essendo dispostiti come diciamo una sonometria le barre più davanti più vicine a me sono più in basso rispetto a quelle che sono dietro quindi è difficile andarle a valutare quindi il 3D confonde il contesto in realtà qui il contesto potrebbe esserci peccato che io non lo veda nel senso che non riesco a vedere tutte le altre barre quindi non riesco a fare un confronto appieno non si leggono i nomi tutti i dati ci sono elementi nascosti certo tra l'altro le etichette sono sono scritte in verticale e ci sono alcune barre quindi che sono difficili da leggere le griglie le griglie normalmente dovrebbero servire come un ausilio per la lettura ma in questo caso sono molto pesanti e sostanzialmente poco utili le etichette verticali sono difficili da leggere nel senso che io devo girare la testa o comunque fare lo sforzo di leggere in verticale quindi è poco agevole e se andate a vedere gli anni gli anni FY non sta per financial year quindi anno finanziario o fiscale in italiano passiamo dal 95 94 93 normalmente io tendo a rappresentare anche mentalmente il tempo come un qualcosa che si allontana e quindi questo è controintuitivo se volete un'altra caratteristica negativa di questo grafico è il fatto che i colori sono molto brillanti se voi iniziate a vedere questi guardate per lungo tempo colori così brillanti alla fine stancano la vista quindi non è facile da leggere è poco intuitivo ci sono elementi che distraggono quindi ci sono un sacco di dettagli che lo rendono un grafico pessimo in questo cosa c'è che non va il grafico non rispecchia i valori sì perché se leggete 52 47 lì sembra più un 40 e un 60 o meglio un 30 o 70 non manca il contesto giusto in questo caso non sappiamo di cosa si tratta ci sono le etichette ma non sappiamo cosa rappresentano in generale una delle buone norme lo vedremo poi assieme al resto è quello di andare a mettere un titolo da qualche parte che dica di cosa si tratta altrimenti lo sfondo è difficile sì non mi facilita cioè non mi dà non mi dà contrasto è corretto quindi questo è un altro problema altro un'altra cosa è che di nuovo questo è tridimensionale lo spessore non ci dà nulla ok si chiamano diagrammi a torta e quindi questi hanno pensato che effettivamente la torta deve essere spessa altrimenti non è buona inoltre c'è una specie di prospettiva che oltre a rappresentare quelle fette in maniera assolutamente non proporzionale altera ulteriormente quella che è la percezione della forma delle due fette e quindi mi dà grossi problemi ok va bene questo è un altro esempio di quello che io chiamo l'effetto arcobaleno che capita molto spesso quando utilizzate un diagramma a barre con tantissime categorie per alcune delle categorie quelle principali Cina Iran Pakistan e Brasile io so a cosa si riferiscono le fette ma se dovesse andarvi a chiedere l'India a quale fetta si riferisce ecco è un task praticamente impossibile quindi i dati non riesco a vederli quindi lasciamo perdere gli effetti rainbow e nel caso utilizziamo ad esempio un diagramma barre in cui ho la barra e l'etichetta di fianco ok tanto per darvi un esempio di redesign molto molto semplice anche qui qui non è solo il grafico tridimensionale con la prospettiva e la trasparenza sì il punto è che i dati non hanno senso perché quali sono le versioni di Windows 1 2 3 95 98 2000 cioè quindi non 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 ha nessun nessun significato assolutamente ok quindi Windows 2000 sembra molto meglio probabilità di misura di nuovo non esiste perché è una versione anche 95 non è che la versione 95 è il nome commerciale quindi attenzione che non sempre i dati che abbiamo a disposizione hanno un significato e possono essere rappresentati in questo modo ok prima di chiudere un paio di grafici interessanti allora questi grafici sono interattivi quindi se andate a vederli un po' se riesco a allora ve li ve lo visualizzo direttamente nel browser ok così lo vediamo direttamente forse così riusciamo a vederlo meglio ok ok no no scusate vediamo un po' ecco ecco prima e dopo il momento in cui è stata annunciata la sua morte vede qui è un lunedì lunedì mattina arrivano arriva la notizia e vedete come subito dopo l'annuncio della della morte c'è un picco enorme di di download e vediamo come adesso vi faccio vedere anche nella parte alta ad esempio alcune come heroes hanno avuto un picco enorme quindi abbiamo heroes let's dance life on mars lazarus space oddity sono quelle che hanno avuto picchi più alti vediamo anche come il picco è stato fino alle 6 poi c'è stato di mattina c'è stato un picco fino a 6 di mattina poi c'è stato un calo probabilmente essendo sulla dati americani la gente a quell'ora lì iniziava andare a lavorare e quindi fino a che sono arrivati al lavoro sono allora hanno iniziato di nuovo a scaricare in streaming e le canzoni di debbaui c'è stato un picco e poi vedete di nuovo c'è c'è stato un calo verso il pomeriggio ok di nuovo qui un sacco di dati e interattiva quindi se io voglio andare a vedere ad esempio starman vedete che si colora la linea e mi permette di andare a visualizzare bene l'andamento di quella linea quindi qui oltre ad avere i dati molto densi abbiamo anche l'aspetto interattivo che ci aiuta a esplorare ulteriormente il quello che è la l'aspetto più di dettaglio allora ok vediamo un attimo scusate torno a condividere l'altra finestra che è questa ok eccoci qua e quindi questo è un esempio questo è un altro esempio interessante allora qui abbiamo dati che riguardano brasile abbiamo in ascissa scusate in ordinata abbiamo quello che è l'indice di di gini di disuguaglianza più è alto più c'è disuguaglianza ok in orizzontale abbiamo invece quello che è il prodotto interno lordo e questa linea che avanza è sostanzialmente la sequenza che collega nei vari anni i valori della disuguaglianza in termini di reddito e del prodotto interno lordo e tutti questi anni sono 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 legati da questa linea e la linea ha un colore che corrisponde a diversi presidenti quindi ad esempio nella parte in basso a destra vediamo che dal 2002 al 2010 c'è stato il presidente lula e durante questo periodo la disuguaglianza è calata e il prodotto interno lordo è anche cresciuto mentre invece se andiamo a vedere dall'86 al 90 abbiamo Sarney che durante la cui presidenza sostanzialmente la disuguaglianza è cresciuta e il prodotto interno lordo è sostanzialmente restato stabile e è cresciuto pochissimo altro esempio molto sintetico percentuale di popolazione che vive in assoluta povertà qui abbiamo due scusate due fonti di dati e comunque ci fanno vedere come questa questa percentuale sia in netta decrescita molto semplice molto comprensibile e poi ultima visualizzazione che vi consiglio di andare a vedere è quella che è linkata qua che è una visualizzazione online di Hans Rosling che era un altro pioniere della visualizzazione dei dati direi che questo era giusto per darvi un'idea di quali sono gli aspetti interessanti quindi alcuni esempi di visualizzazioni buone pessime che cos'è la sequenza di passi che dobbiamo fare durante la visualizzazione e giusto per darvi un'idea di quale sarà un po' l'argomento di sottofondo di tutto il corso direi che con questo per oggi chiudiamo e noi ci rivediamo giovedì pomeriggio questo giovedì ovviamente non ci sarà laboratorio perché non c'è materiale per farlo e quindi ci sarà una lezione normale io domani vi pubblico la prima lezione pre registrata in modo che possiate vederla con calma e poi giovedì pomeriggio riprendiamo quegli argomenti più nel dettaglio arrivederci e buon pomeriggio grazie a tutti